Il 2013 è stato un anno nero sul fronte dell'edilizia residenziale in Campania. Il mercato immobiliare ha avuto una flessione del 45% e a Napoli in particolare un edificio su quattro di quelli abitati è stato costruito prima del 1919, mentre il 70% ha più di 40 anni. I dati sono emersi durante l'Home Day, iniziativa organizzata dall'ACEN, l'Associazione Costruttori Edili di Napoli, per evidenziare, come spiega il Presidente Rudy Girardi, l'esigenza di tornare a investire nelle politiche abitative. Noi vogliamo che ci sia una riduzione della tassazione e che quella tassazione sia chiara per tutti. Spero che con la legge di stabilità si possa chiarire, questa famosa IUC, quanto comprende, quali sono le aliquote per la seconda casa, per la prima casa, per l'invenduto e quant'altro. Spero che quello che è uscito dalla porta non rientri dalla finestra e parlo nel nostro settore del problema dell'invenduto. Uno dei principali ostacoli nel settore è la difficoltà per le giovani coppie ad accedere al credito bancario per l'acquisto della casa. Nel corso dell'incontro però il Presidente della Camera di Commercio Napoletana, Maurizio Maddaloni, ha illustrato le strategie varate dall'ente camerale in questo senso a Napoli. Dando forti iniezioni di liquidità al sistema dei confidi per affrontare parzialmente, provare a risolvere, la questione dell'accesso al credito. Quindi diciamo tutte le questioni che sono collegate al fondo di garanzia e all'abbattimento tassi. 10-12 milioni di euro all'anno la sola Camera di Commercio Napoli stanzia sul tema proprio perché il sistema delle imprese possa affrontare con minore pesantezza la questione del credito, il rapporto funzionale con le banche a favore della ripresa e dello start-up delle imprese. Grazie. 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 Grazie a tutti.